Un progetto rivolto a laureati e professionisti del settore culturale interessati a migliorare la loro preparazione in termini di management delle organizzazioni culturali, del patrimonio culturale e delle imprese del settore culturale e creativo. Si chiama MUSEK ed è un master che il Dipartimento di Economia Management dell'Università di Ferrara presenta nella sua dodicesima edizione unitamente all'Associazione Nazionale dei Musei di Enti Locali e Istituzionali in collaborazione con NCATC, la Rete Europea per la Gestione e la Politica Culturale. Il master è alla sua dodicesima edizione e quest'anno ha anche una special edition legata al settore culturale creativo in senso più ampio per creare una sinergia tra quello che è il settore culturale classico nel nostro paese con tutta la parte legata all'ambito più imprenditoriale invece della cosiddetta impresa industria creativa. Questa sinergia nasce in realtà dalle esigenze che richiede il territorio perché è sempre più forte la necessità di far comunicare fra di loro quelle che sono le realtà cosiddette legate al settore pubblico quindi possono essere le biblioteche, i musei o quant'altro, mostre eccetera, con invece tutto l'ambito legato al culturale creativo quindi fino ad arrivare al turismo come finalità ultima. Quindi l'obiettivo è quello di creare delle figure, delle professioni che possano interfacciarsi con queste diverse realtà del settore. Qual è il target di riferimento a cui vi rivolgetti? Allora noi abbiamo tre diversi target. Il primo target è chi è laureato con una laurea triennale, in questo caso può accedere a un master di primo livello, col secondo livello si accede con una laurea magistrale o a ciclo unico o appunto magistrale quindi con il cosiddetto più due, oppure c'è anche la possibilità di acquistare dei pacchetti di lezioni, di corsi e solitamente questi vengono fatti da professionisti che già operano sul settore e che magari hanno bisogno di creare o di specializzarsi in alcuni profili. La scadenza della domanda di ammissione è lunedì 12 febbraio 2018. Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con Attupertù dedicato ormai a quella che potremmo definire una istituzione del nostro Ateneo, dell'Università di Ferrara. Dodicesima edizione del Master in Economia e Management dei beni culturali, dei musei, dei servizi culturali dal 2004 ad oggi, il master ha funzionato non solo in modo egregio ma espandendo sempre di più la propria area di interessi e facendo anche proseliti in diverse facoltà universitarie o in diversi corsi di studi. Per parlarne, dopo aver sentito la codirettrice del master di quest'anno e con noi Anna Maria Visser, la professoressa Visser che molti di voi conoscono perché è stata ospite ai nostri studi e perché è una figura del mondo culturale ferrarese importante. Ha una storia alle spalle e fino a quest'anno nel momento in cui il professor Fabio Donato se ne è andato in Europa per un prestigioso incarico ha codiretto con il professor Donato il master che adesso invece dirige con la professoressa Monia Castellini, docente di museologia e museotecnica della nostra università, è stata direttore dei musei civici di arte antica di Ferrara, quindi Palazzo Schifanoia, Lapidario Romano, Palazzina di Marfisa d'Este, Palazzo Bonacossi, Casa di Ludovico Ariosto, Museo della Cattedrale e in precedenza è stata vice direttore in campo archeologico e quindi molte campagne di scavi ma soprattutto molte attività come dire di cerche scientifiche e di pubblicazioni. La vediamo anche animare molto spesso convegni importanti all'interno del salone del restauro è stata anche direttore o presidente dell'associazione nazionale dei musei di enti locali e di istituzionali. Ho detto quasi tutto, sì tantissimo, dal che si denuncia che in letta mia non è più verde. Forse non è più verde ma diciamo che oggi si parla tanto di competenza, di esperienza, certamente Anna Maria Visser esperienza e competenza per parlare non soltanto del master ma di economia della cultura che finalmente è entrata qualche anno a questa parte sia nell'agenda politica ma anche nell'agenda diciamo così mediatica, ecco nel dibattito pubblico, con Anna Maria Visser le carte in regola ce le ha. Allora partiamo però dal Musec. Grazie, tanto grazie dell'invito, è sempre un piacere. Anche per noi e credo per il nostro pubblico. Allora diciamo fino a lunedì 12 ci si può iscrivere ma in realtà non è così tassativa questa scadenza perché comunque quando inizierà spieghiamo intanto un pochino a chi non lo conosce che cosa è questo master, come funziona, come si articola nel corso dell'anno e se è di primo o di secondo livello. Dunque, quest'anno il nostro sforzo è stato proprio quello di dare un'offerta completa quindi sia un master di secondo livello, cioè per chi ha una laurea magistrale, il famoso 3 più 2 e vuole acquisire 60 crediti, sia per chi ha la laurea triennale e può acquisire sempre 60 crediti. Ci sono poi situazioni in cui c'è chi ha già magari dei suoi percorsi ed è interessato ad un master fra virgolette più breve, noi lo chiamiamo short master, cioè un corso di specializzazione e poi ha anche la possibilità eventualmente di seguire dei moduli. Questo per cercare di rendere il più possibile appetibile e anche flessibile l'offerta, visto che i tempi sono tali per cui c'è necessità da parte dei corsisti, dei giovani, ma anche non così giovani, sappiamo che ci saranno dei corsisti eccellenti, persone che già hanno una certa posizione, ecco la possibilità comunque appunto di fare un percorso formativo perché anche chi non è più così giovane? Perché oggi la formazione è diventata davvero centrale nel curriculum di ogni persona da tempo è finito il momento in cui c'era il momento della formazione, poi c'era l'ingresso nel mondo del lavoro e quant'altro. La formazione è una formazione continua, c'è necessità continuamente di adeguare le proprie competenze anche certificandole, perché magari prima la formazione c'era ma era tutto un po' privata certificandole in modo da potersi costruire fra virgolette delle carriere che non sono più con un tempo così incanalate in modo specifico quasi con delle barriere fra un percorso e l'altro. Il mercato del lavoro, diciamo da questo punto di vista, è diventato più flessibile, quindi non è difficile oggi fare un lavoro, lo stesso lavoro per tutta la vita, il che è un bene e un male nello stesso tempo. Certamente, certamente. Ecco, quindi abbiamo detto è aperto a diversi... Solo un appunto, la data di lunedì è tassativa, cioè ci sono ancora disponibili alcune borse di studio, perché fortunatamente abbiamo acquisito parecchie borse di studio, c'è un sostegno forte della regione Emilia Romagna, borse di studio anche da parte dell'Inps, ci sono disponibili ancora alcune borse, quindi la domanda va fatta. Poi naturalmente c'è un tempo, un incontro, c'è il tempo per l'immatricolazione, eccetera, ci sono vari step, però la domanda va fatta entro lunedì. Ecco, ma come funziona, diciamo, un laureato, un neolaureato, sia trennale che in laurea specialistica, decide di giocarsi la carta del master, deve iscriversi e poi cosa succede? C'è una retta, ci sono delle borse di studio, come funziona? Dunque, si iscrive, c'è ovviamente il pagamento della quota di iscrizione, c'è un colloquio di selezione, ma normalmente chi arriva a prendere questa decisione ha già un curriculum, ha una motivazione molto forte e quant'altro. Le borse, ecco, l'assegno di formazione regionale copre interamente le spese della tassa di iscrizione, così anche le borse dell'Inps e è tranquillamente abilitato ad entrare, a far parte dei corsisti. E quindi comincia il percorso che ha anche qualche verifica in itinere, ma più che delle verifiche di scolastica memoria, formali, tipo, non so, compito in classe, è molto più spinto a fare, a fare, a fare delle esperienze, a fare dei progetti, al laboratorio, c'è molta attività laboratoriale, le cosiddette paper discussion in inglese, perché si introduce anche un po' d'inglese, quantomeno l'approccio con la bibliografia anglosassone, ci sono le visite di studio, ci sono delle prove che consistono proprio nel sviluppare delle tematiche e poi c'è il momento finale della tesi, che anche qui non dobbiamo pensare alla tesi, voglio dire, il volumone, eccetera, eccetera, ma è proprio un progetto. Un progetto. Ecco, conosco un po', perché ho, diciamo, bazzicato questa vostra realtà molto interessante, che in questi dodici anni, passa perché è nata nel 2004, Sì, più di dodici. Sono più di dodici, insomma, si è evoluta, si è anche modificata. Certo. Quest'anno abbiamo sentito che, oltre ai musei e servizi culturali, avete inserito con una specifica indicazione proprio le imprese culturali e creative. Allora, intanto vorrei fare la domanda preliminare. Come è cambiato anche il contesto del 2004 e oggi? Oggi si parla di musei, oggi si parla di visite musei, oggi si parla di un grande interesse degli italiani, oltre che degli stranieri, per i musei, ed è stata una scoperta forse anche per gli stessi musei, dico bene? Beh, quello che è cambiato, diciamo, che è esplosa a partire dal 2004, in cui eravamo pionieri. C'erano offerte formative di questo tipo, cioè che tentano di integrare le competenze disciplinari, siano umanistiche, siano scientifiche, siano quelle che acquisiscono architetti o anche gli economisti stessi, con l'acquisizione, noi lo chiamavamo, un bagaglio degli attrezzi, no? L'acquisizione, la cassetta degli attrezzi, per essere in grado di mettere a frutto la competenza disciplinare acquisita nei corsi universitari per programmare, progettare, organizzare, gestire. In un museo o in una qualsiasi altra attività culturale o gestione di bene culturale possono andare bene, come dire, competenze diverse, competenze giuridiche, competenze economiche, competenze umanistiche, storico-artistiche, però deve esserci, ecco, nella vostra, diciamo così, intento, in questo voi siete stati i primi, no? Un po' degli apripista, una competenza, una capacità di gestione economica, perché comunque quella espressione bene culturale ha una valenza anche economica. Sì, è ambigua, certo. Quindi voi avete un po' fatto da apripista al dibattito sulla valorizzazione dei beni culturali anche in chiave economica, quindi che oggi è diventato, come dire, all'interno della riforma del ministro Franceschini e delle misure che sono state prese in questi ultimi anni, ma anche sull'onda, diciamo, di un cambiamento proprio di prospettiva, per cui oggi con la cultura si mangia, mentre quando voi siete nati ancora suonava l'eco della frase che con la cultura non si mangia. Ecco, quindi la valorizzazione del bene culturale diventa fondamentale, pur nel rispetto, nella tutela, nella conservazione del bene per le generazioni che vengono. Nella nostra formazione cerchiamo di dare una visione sistemica, circolare, dove l'economia ha un ruolo fondamentale, ma ci tengo a ricordare che io dirigo assieme a degli economisti, prima Fabio Donato, che comunque continua a essere il nostro punto di riferimento adesso con Monia Castellini. Ecco, quindi l'economia all'interno di un sistema complessivo in cui devi coniugare la tutela con la conservazione, con termine che a me piace molto, la comunicazione, che non si intende solo la pubblicità, ma proprio il dovere, il dovere, specialmente da parte di chi ha in carico questi beni culturali, di curarli per chi? Per la comunità, per il pubblico, per aprirli. Se non comunichi, addirittura nella definizione internazionale, se tu non comunichi il museo al museo, non c'è. L'acquisizione, devi occuparti di tutti, allora l'economia diventa lo strumento fondamentale per rendere sostenibile delle istituzioni che ovviamente hanno, fra virgolette, dei costi, perché il patrimonio va curato, però nello stesso tempo è un dovere gestire al meglio, in modo sostenibile e anche, nella misura possibile, nel totale rispetto del bene e dei valori, provare ad autogenerare sostanzialmente delle risorse che possano essere reinvestite nell'istituzione. Questo avviene dovunque, dovunque, dovunque. In Italia... L'Italia è rimasta in dieta. In Italia continuano delle polemiche forti. Allora, è chiaro che la monetizzazione becera non è che non ci sia. Non è che non ci siano privati beceri che per loro l'importante è così, rapino la natura, rapino la spiaggia, ti metto magari la pizzeria dentro al museo per dire, o ci faccio un dance. Per carità, non è che tutti sono santi, ma tutti non sono neanche diavoli. Si tratta di riuscire a coniugare tutto questo. Perché questo, stando poi con Fabio Donato, che è proprio economista della cultura, economista aziendale, valutando, vedendo quello che succede nelle grandi istituzioni straniere, c'è sempre il sostegno pubblico. Perché anche, voglio dire, il Metropolitan Museum di New York ha un sostegno enorme da parte della municipalità di New York. Quindi il sostegno pubblico è ineludibile. Però c'è una quota poi molto consistente di autogenerazione di introiti. Poi c'è, ecco che arriviamo alle industrie culturali creative, quello che è la ricaduta. Non solo la ricaduta perché il pubblico si muove, il pubblico viene, quindi è bene per il turismo, è bene per l'economia della città, che è fondamentale. Ma è anche proprio la ricaduta nelle attività produttive. Sì, nelle attività produttive e anche nella cultura delle persone, lo vogliamo dire. Assolutamente. Perché se le persone entrano in un museo e non capiscono quello che vedono, per cui servono di descalie, pannelli, servono gli strumenti moderni del web, quindi dei plasmi, che sono tutte cose molto costose, ma servono alla comunicazione vera e propria, cioè a far crescere anche culturalmente, ad orientare questo pubblico. Quindi non il museo, diciamo, come moda di massa, il turismo di massa. E questa è la bellezza di quello che sta accadendo in questi ultimi anni. Per me che, come dire, faccio parte del mondo, mio marito dice dei mandarini, ecco. Un po' di aristocrazia, un po' di litarietà. Sì, esatto, un po' di autoreferenzialità. E che quindi è una vita intera che vedo come questo mondo è tutto sommato, fra virgolette, ristretto. Vedere questa crescita così forte, in un tempo così breve, di interesse, di consapevolezza, di voglia di partecipare, mi lascia stupita e mi rende anche molto soddisfatto. Soddisfatto, orgogliosa, perché poi voi contribuite a formare, diciamo, queste anche nuove professionalità necessarie a questa nuova era, diciamo, del bene culturale. Ecco, in questa ottica, quali sono, diciamo, le discipline presenti all'interno del master? Che naturalmente può avere dei laureati in giurisprudenza, in economia, in materie umanistiche. Ecco, ci sono delle discipline che vanno bene per tutti, ma come si fa poi un po' ad amalgamare? Oppure già ciascuno segue dei percorsi legati alla propria formazione di base? L'alchimia, che fortunatamente si rinnova a ogni edizione, è proprio questa, di riuscire a mettere in connessione persone che hanno formazioni diverse, anche livelli di competenza diversi, mettendoli insieme. Le discipline, ci sono tante discipline che, a nominarle così, sono sostanzialmente discipline tradizionali, perché, voglio dire, c'è la parte dura, anche contabilità e bilancio, però, voglio dire, c'è il marketing, c'è adesso un settore, se può, nuovo, la rigenerazione urbana, c'è la museologia e la museografia. Ecco, ci sono naturalmente tutte queste offerte, fra virgolette, disciplinari, che però, naturalmente, tengono conto dell'uditorio. Ma soprattutto, quello che dico, è il puntare molto sulla attività laboratoriale, sulla discussione dei casi, sulle letture specifiche, che sono quelle più innovative e più problematiche del momento, che, quindi, poi, generano anche, fortunatamente, speriamo che succeda anche quest'anno, un dialogo all'interno del corso. Lavorate molto in team, per capire. Certamente. Voi e anche i ragazzi, gli allievi, diciamo, del master, si integrano molto a farlo. Allora, abbiamo detto come è cambiato il contesto, e come è cambiato il master, lo stiamo dicendo, veniamo a questa edizione, un'edizione speciale, nel senso che voi avete anche incluso l'industria culturale creativa, che non ha soltanto i musei, il paesaggio, ma anche la moda, anche il settore, diciamo così, dell'ago alimentare. Quindi, diciamo, copre l'artigianato artistico, culturale. Ecco, questo settore sembra incidere molto, diciamo, sulla crescita anche del PIL, del paese, comunque del... Anche nuovi posti di lavoro, significa nuove piccole microimprese, magari piccole, ma con un altissimo tasso di conoscenza, di competenza culturale, di innovazione. È così? Qui dobbiamo renderci conto che c'è un indirizzo specifico, prima di tutto a livello europeo. Quindi, patrimonio culturale, d'accordo. Poi dopo farò una citazione. Ma, voglio dire, tutto quello che appunto è generato dal patrimonio. C'è un indirizzo europeo, quindi ci sono e ci saranno fondi specifici. Su questo si innesta la regione, che fra l'altro, grazie all'assessore, poi Patrizio Bianchi, ci crede in questo filone. Perché? Perché vediamo che in questi ultimi anni proprio l'aumento percentuale, in termini assoluti, dell'attività produttiva, dell'industria culturale creative, è notevole. Sì, è più alto. Superiore anche a quello di settori tradizionali. Dice un collega, il Presidente del Consiglio Superiore del Ministero, Giuliano Volpe, il patrimonio culturale, in tutte le sue accezioni, è come se fosse l'hardware. Le industrie culturali creative, tutte le attività, tutte, voglio dire, le competenze, le capacità che possono essere sviluppate a partire, è il software che può avere, naturalmente, una moltiplicazione di applicazioni. Certo. Quindi, Ferrara in questo momento è, come dire, fitta di cantieri, di cantieri di restyling, di restauro, legati anche alla messa in sicurezza post-terremoto. Però, per alcuni di questi beni culturali musei, c'erano già dei progetti di ammodernamento. Ecco, penso a Palazzo Massari con i suoi musei dell'Ottocento, eccetera. E quindi, questi musei si apriranno, ecco, nel nostro territorio, ma si aprono, con servizi particolari, proprio perché devono diventare luoghi, non di passaggio, ma luoghi di sosta, dico bene? Di elaborazione, di progettazione, di elaborazione della cultura. Non so chi ha detto che il museo, dice a noi, il libro lo leggiamo, quindi, in biblioteca andiamo per leggere, oppure compriamo in librerie libri a casa, ci prendiamo tutto il tempo, lo leggiamo, lo rileggiamo. Al museo, dovremmo andare per leggere anche ciò che è, quindi per prenderci il tempo per stare, no? Devo dire che a Ferrara, ma non solo a Ferrara, già in questi ultimi anni, ci sono musei molto attivi, che hanno sviluppato una quantità di programmi, progetti, attività. Cioè, il museo viene in qualche misura quasi assimilato a un luogo di spettacolo. Esatto. Cioè, c'è sempre un motivo per andare al museo. È chiaro, c'è la visita classica, c'è il turista, c'è magari la scolaresca, c'è lo studioso, c'è l'appassionato, ma... C'è anche l'evento. Motivi per andare, che vanno, possono andare da offerte culturali molto sofisticate, fino a un momento, la festa di carnevale con i bambini, e quant'altro. E questa è una tendenza, integrando poi gli istituti, integrando le offerte. Questa è una tendenza salutare, perché orienta poi tanta, tanti giovani, può orientare tanti giovani verso questi filoni di attività. Che sembrano appassionarli molto. Sì. E non bloccarsi solo in una dimensione, fra virgolette, accademica, lo dico nel senso meno nobile, e non aprirsi a queste nuove esigenze, a queste nuove richieste. Certo, infatti, oltre ai settori tradizionali delle arti, quello che è chiamato software, si apre a tutta una serie di nuovi settori, diciamo, della creatività, che può assumere più o meno un valore artistico, ma che è funzionale alla frizione dell'arte. Come i new media, come gli audiovisivi, penso a quel bellissimo audiovisivo che c'è nel museo, nel MES, con cui è stata, diciamo, inaugurata questa nuova sezione, che racconta nell'arco di 20-30 minuti la storia degli ebrei in Italia. Insomma, è il museo che parla prima di fare la tua visita. Certo. Leggi, ascolti, senti. Ecco, che cosa, qual è il numero massimo degli iscritti? Massimo è 25, 25, minimo, impara una quindicina. Perché questi numeri? Perché poi i corsisti vanno seguiti. Certo. Non è semplicemente docente, arriva in aula, fa lezione, basta. È tutto un corso in presenza? oppure è? No, dunque, c'è da quest'anno una forte inserimento della formazione a distanza. Però, una quota del 50%, cioè, chi segue, almeno un 50% in presenza, l'altro 50% può usufruire appunto della formazione a distanza. Anche qui, perché, voglio dire, chi lavora, chi ha attività, eccetera, può sostanzialmente riuscire ad organizzarsi. Pensiamo a quelli che sono gli ordini professionali, no? Da quando gli ordini professionali devono far sì che i propri iscritti facciano un certo numero di crediti annuali obbligatori, ed ecco, i professionisti devono lavorare. E quindi, la formazione a distanza integriamo è la prima volta per noi e confidiamo comunque che possa essere utile. Quindi, ecco, per chiudere, diciamo, questo focus sul Musek edizione 2018, Anna Maria Visser, facciamo un appello, una micro presentazione allettante, diciamo. Dunque, per me, ogni corso, io lo attendo perché diventa un'esperienza umana? straordinaria. Non si dimentica. Nel corso di questi anni ho maturato addirittura delle amicizie che sono rimaste gli anni con i corsisti. Alcuni dei nostri allievi, mi permetto di chiamarli così, hanno fatto anche delle brillanti carriere. Quindi, diciamo, c'è proprio questa alchimia. Normalmente, poi, restano legati fra di loro. se non sono ferraresi, restano legati alla città. Cioè, scatta un qualche cosa. È un momento di formazione che coinvolge profondamente e lascia, lascia poi nel tempo, al di là delle nuove competenze acquisite e delle capacità che ci auguriamo per tutti possano essere foriere, no? Di brillanti risultati, lascia un rapporto umano straordinario. Bene, benissimo. Grazie a Danna Maria Visser, grazie a voi dell'attenzione che ci accordate e arrivederci ad una prossima puntata. Grazie.